Il Pentagono, ossia il Dipartimento della Difesa, è la burocrazia più grande al mondo. Ma non sto parlando semplicemente di burocrazia statale. Il Pentagono, le forze armate statunitensi, ancora meglio, sono l'organizzazione più grande che esista. Hanno 3 milioni di personale. Sono finanziati con il budget più alto di qualunque altra organizzazione al globo. Oltre 750 miliardi di dollari all'anno, solamente per le forze armate. Tutto questo non è stato deciso a tavolino, come dicevo. È stato assegnato dalla storia. Nel momento in cui sono ascesi al primato mondiale, gli Stati Uniti hanno successivamente difeso a casa di altri la propria sicurezza e hanno accumulato strato dopo strato questo schieramento militare che vedete rappresentato alle mie spalle. Qualcosa che diventa difficilissimo da dismettere. Perché dismettere un territorio, anche se non è formalmente tuo, è credo l'operazione più difficile che esista al mondo, seconda solo, credo, a cancellare un'identità nazionale, che mediamente si pratica con pratiche, scusate il bisticcio, poco simpatiche, come il genocidio. E nemmeno quello basta. Il territorio non si lascia. Il territorio impone del fardello, dei compiti, che a volte possono non centrare anche niente con la strategia geopolitica o la strategia del soggetto stesso. A un certo punto si rischia che la tattica, ossia mediamente l'esercizio quotidiano della strategia, si imponga sulla strategia stessa. Arrivi a farti fare cose che esulano dalla tua missione, sono inutili, se non addirittura dannose. E il Medio Oriente è un caso lampante di tutto ciò, dove gli Stati Uniti non si giocano il dominio mondiale, ma nel quale sono stati attirati sostanzialmente dalla storia e da una serie infinita di problemi che si sono autoalimentati, fino a renderli potenza insostituibile di questo quadrante. Fintanto che, come diceva Dario prima, Trump ha ordinato in soli sette mesi nel 2019 l'invio di 14.000 soldati. Difficilmente stiamo osservando un ritiro. Senza contare le forze speciali, senza contare i mercenari, senza contare gli agenti di intelligence, nessuno sa quanti soldati, quante truppe ci siano in Medio Oriente.